Assessore Masci, presentato oggi il progetto pilota Reconnection Maya che riguarda lo sport, il turismo nelle aree interne della regione, di cosa si tratta? Sì, soprattutto riguarda la montagna, nel senso che noi parliamo sempre di montagne e di finanziamenti montani, in questo caso abbiamo un finanziamento regionale di 400.000 euro a cui si aggiungono oltre 100.000 euro dei comuni interessati al progetto della provincia per organizzare itinerari turistici sportivi in un territorio montano poco antropizzato come quello della Maiella e del Morrone per esaltare queste caratteristiche, noi parliamo sempre di Abruzzo Regione Verde d'Europa e in questo caso andiamo ad esaltare e ad avvalorizzare gli impianti sportivi naturalistici come l'arrampicata, il fiume, gli spazi invernali innevati per lo sci di fondo, la mountain bike, il cavallo, ecco tutti i sport che sono sport di nicchia ma che sono sport che si vivono a contatto con la natura, l'Abruzzo ha questa caratteristica unica, vogliamo esaltarla, vogliamo valorizzarla e in questo caso abbiamo valorizzato anche l'associazionismo dei comuni perché otto comuni che si mettono insieme per portare avanti un progetto sportivo turistico in rete coinvolgendo anche la provincia, coinvolgendo le comunità montane, coinvolgendo il parco della Maiella perché qui c'è stato un contatto diretto con il parco, credo che sia veramente un salto di qualità nel modo di progettare itinerari turistici e sportivi nella nostra regione, lo abbiamo fatto, questo bando che era aperto a tutti i comuni della nostra regione un bando che noi speriamo di poter replicare visto che questi sono fondi statali perché questo è un progetto pilota nel senso che può essere replicato anche in altre realtà perché vogliamo valorizzare questa realtà di impiantistica sportiva naturale che nel nostro territorio sicuramente rappresentano un unicum che può attrarre turisti e persone interessate allo sport di genere grazie 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 grazie